Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Anche oggi per l'ennesima volta parliamo di Alfa, parliamo di Giulietta che sono le macchine forse fra le più gettonate degli ultimi degli ultimi anni. Prima avevamo la Mito, adesso la Mito diciamo che è caduta nel dimenticatoio, la Mito è stata sostituita dalla Giulietta e ne facciamo veramente tantissime. Allora ne abbiamo già fatte altre di questo genere, questa è la Giulietta diciamo una delle più potenti perché è la Giulietta veloce, quindi col motore 1750 da 241 cavalli, quindi direi che già di per sé è una macchina assolutamente performante. Quello che abbiamo fatto, questa è una macchina che abbiamo lavorato in due momenti diversi, la prima fase non avevamo fatto il filmato, ne facciamo uno che raggruppi appunto un po' tutto quello che abbiamo fatto. Quindi partiamo dalla parte estetica che abbiamo completato oggi, abbiamo lavorato su queste appendici estetiche, questa si chiama lama o estrattore anteriore della Maxton Design, questa è una ditta con la quale abbiamo iniziato a collaborare da un po' di tempo, fa degli ottimi prodotti specifici per ogni singola macchina, soprattutto quello che a noi interessa, devono essere perfetti nel montaggio, quindi sono prodotti stampati in plastica, quindi assolutamente non in vetro resina, sono molto belli, devo dire che hanno un look molto piacevole, non sono troppo pacchiani, non sono troppo invasivi, l'unico difetto è che hanno dei tempi di consegna molto lunghi, vabbè pazienza, quello arriva dalla Polonia. Quindi passiamo poi alla parte diciamo laterale, sempre utilizzando prodotti della Maxton, abbiamo montato queste sottominigonne, perché la macchina nel 1750 ha già delle minigonne di serie, questo diciamo che è un prolungamento che va applicato sotto direttamente alla parte già esistente, quindi non si toglie quella precedente ma si applica sotto, quindi un'estensione della minigonna precedente. E la parte posteriore, questo spoilerino, anche qua Maxton Design, che dà quel look, sicuramente anche in questo caso si vede chiaramente il vedo e non vedo, a me personalmente piace molto vedere delle macchine con degli accorgimenti estetici non troppo invasivi, uno spoilerino del genere secondo me è elegante, non si vede eccessivamente, però il colpo d'occhio lo dà, è sicuramente un ottimo prodotto. Quindi a questo punto vi abbiamo descritto il lavoro che abbiamo fatto oggi, per il quale andremo in consiglia poi nel pomeriggio. Già che ci siamo, vi elenchiamo la parte di lavori precedenti che sostanzialmente erano prevalentemente sulla parte meccanica, quindi rimappatura della centralina elettronica via seriale, come al solito, come dico sempre, non facciamo mai lavori troppo invasivi e andiamo a prendere circa sulla macchina del genere una trentina di cavalli, cioè in sostanza la portiamo da 240, 270, 272 cavalli con un incremento circa di 50 Nm di coppia e la parte motore sicuramente ne beneficia ma rimane sempre all'interno di parametri di affidabilità. Quindi a livello di scarico abbiamo, siamo intervenuti un po' di tempo fa, abbiamo fatto il tubo centrale della Ragazzon, quindi eliminando il silenziatore e montando il terminale. Questa macchina esce già con il doppio scarico destro e sinistro, con il suo estrattore già predisposto, infatti tante volte quando ci capitano, non so, delle 1.4, cioè nulla veloce ovviamente, che hanno uno scarico solo, diciamo i clienti o troviamo noi un estrattore particolare delle levezze, della Maxton, della riga, di quello che vogliamo, oppure si compra proprio quello originale, che questo qua è proprio quello originale della 1.750, già predisposto con la doppia uscita. Quello che abbiamo fatto noi è lasciare nell'estrattore e cambiare invece il terminale, adesso Mirko vi farà sentire un attimo l'effetto, direi che più che onorevole. Quindi come avete potuto sentire direi che il sound c'è, è bello pieno, sportivo, non invasivo, però diciamo è corposo anche dovuto dal fatto che il motore chiaramente ha una certa compressione, essendo un motore con una determinata cavalleria ovviamente ha anche una compressione diversa rispetto a un 1.400 da 120 cavalli. Direi che il lavoro è stato fatto esattamente come il cliente ce l'ha richiesto. Io direi che anche per oggi, per questa Giulietta è tutto, vi invitiamo a contattarci telefonicamente, come sempre dico, in sede allo 0273 83175, mi trovate da lunedì al venerdì in qualunque momento. Consultate il sito www.nomelegiri.it, cliccate sulla campanella e quello che vi chiediamo è quello di iscrivervi al canale, soprattutto per aiutarci a crescere e per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!